Alle 8.40 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano e l'allacciamento dell'A31 per un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter in fase di sorpasso per un probabile guasto meccanico, gravemente feriti il conducente e la passeggera finiti a terra. I pompieri arrivati sul posto hanno messo in sicurezza il teatro dell'incidente collaborato con il personale sanitario che ha preso in cura le due persone stabilizzati e trasferiti in ospedale, l'uomo è stato intubato sul posto, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è anche la polestrada e il personale ausiliario. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato coalizzato su una sola corsia. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.